Buona settimana, e la vittoria anche, alla fine della settimana. Tenno, non so cosa fare... Eh? No, ma... Eh? No, 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 no. Passami cosa... Parli italiano, dai! No, no, italiano! Posso, posso! Eh? Eh? Eh... Parlo un pianino! Che cosa devo dire? È stata una settimana fantastica, sono arrivato domenica. Eh... Non pensavo di vincere il torneo, ovviamente, perché nel tabellone c'erano tanti nomi forti, come Grano Yers, eh... Tanti top 100, e ho pensato di giocare match dopo match, e... E niente, eh... Sono arrivato in finale, ho cercato di non pensare a vincere, ma di... Di giocare il mio miglior tennis. Come ho detto prima, complimenti a Greg e per il suo ritorno nel circuito ATP. Spero di vederlo nuovamente, top 100, in qualche mese, quindi gli faccio un grande in bocca al loop. Good luck for you in the next month! Grazie! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!